Ciao a tutti, sono Flavio Mazzolati, Presidente del Club degli Amici del Made in Italy. Mi presento, sono appunto il Presidente di questo club che è nato per promuovere, in anni, inizialmente era uno scambio culturale qui nella provincia di Milano dove si portavano, dove si creavano relazioni tra le varie persone, tra le varie diversità che c'erano appena dopo la guerra, quando c'è stata questa integrazione tra Milano e tutte le popolazioni del sud Italia e si cercava di integrare quello che erano un po' i bisogni e un'attività di accoglienza. È nato a Cassina dei Pecchi, in un paesino ridente qui della provincia di Milano e dopo, negli anni, ha avuto tutta una serie di evoluzioni fino a quando, qualche anno fa, abbiamo deciso di aggiungere al Club degli Amici la parte Made in Italy. Made in Italy perché è sempre stata la nostra passione, prima in ambito più culturale e, diciamo, relazionale, poi dopo a livello imprenditoriale. Io sono Flavio Mazzolati, ho 30 anni che mi occupo di export e in un modo o nell'altro sempre la mia vita è sempre votata attorno a questa passione che era portare il Made in Italy nel mondo e soprattutto portare anche quello che era il mondo in Italia, cercando di creare uno scambio culturale prima e poi imprenditoriale dopo. Il Club degli Amici, come vi ho detto, siamo un'associazione che favorisce l'incontro e le relazioni per stimolare e far crescere le aziende oltre confine. abbiamo tutta una serie di strumenti che mettiamo in campo, che derivano dall'esperienza di aziende che hanno vinto sui mercati internazionali e cerchiamo di condividerli con voi mettendo a disposizione quello che è la nostra conoscenza e soprattutto le relazioni che abbiamo, abbiamo creato questo network dove invitiamo ad ogni evento degli esperti di questi fattori che abbiamo definito i dieci comandamenti dell'export e stasera ci sono quattro campioni di questi comandamenti. Perché ci teniamo molto al Made in Italy? Perché noi abbiamo un plus in più noi imprenditori che dobbiamo ricordarci, non dobbiamo solo lamentarci di tutto quello che non funziona, ma abbiamo il brand Made in Italy che è il più riconosciuto al mondo, è il primo brand intangibile che ci dà un vantaggio competitivo che tutte le altre nazioni non hanno. Quindi dobbiamo valorizzare questa peculiarità perché se noi vediamo che il primo brand è la Visa e la Coca Cola, poi ci siamo noi che sono però due brand tangibili, quindi il nostro compito qual è rendere tangibile l'intangibilità del brand Made in Italy, come trovando delle strategie, delle invenzioni, visto che noi italiani siamo molto bravi in questo e cercare proprio di dare un qualcosa in più per fare la nostra parte, per portare il Made in Italy sempre più fuori dai confini nazionali. Quindi abbiamo visto che questi dieci comandamenti sono l'indagine interna, capire quali sono i prodotti strategici, la scelta del Paese, l'analisi legale e fiscale, i costi, l'analisi dei concorrenti, le opportunità e i rischi del Paese, in che modo iniziare, con come e con chi, una comunicazione adeguata al Paese e poi contributi che possono essere messi a disposizione dalle varie istituzioni che soprattutto sull'internazionalizzazione in questi ultimi anni hanno dato un forte aiuto alle aziende italiane. Perché vogliamo portare questa esperienza alle aziende? Proprio per evitare l'insuccesso dell'internazionalizzazione, perché bisogna avere, perché non avere un una chiara strategia di ingresso, genera costi inutili per l'azienda, si perde tempo e soldi e si inizia a utilizzare in modo non adeguato le risorse coinvolte e poi non avere una mancanza di focus sull'obiettivo che dobbiamo raggiungere, poi si disperdono energie e poi non siamo in grado di misurare tutti quelli che sono gli indicatori che ci permettono di capire come stiamo andando. Quindi le aziende devono pensare strategicamente all'internazionalizzazione pianificando con estrema cura ogni fase con il supporto dei partner e degli strumenti più adatti. Allora, la crescita dell'internazionalizzazione servono soprattutto competenze professionali qualificate di export, internazionalizzazione in tutte le aziende del Made in Italy per sostenere nei percorsi complessi che portano a entrare sui mercati internazionali per diventare esportatori stabili. Perché l'obiettivo qual è? Non è fare una vendita commerciale e poi finire lì. L'internazionalizzazione vuol dire creare un processo che mi permette di continuare l'espansione commerciale, di ripetere i successi che ho avuto in una vendita e che non si fermi a un unico colpo di fortuna, magari siamo stati anche bravi però la capacità è quella di ripeterci di entrare sempre di più nei mercati internazionali in questo modo. Quindi noi abbiamo preparato questi dieci comandamenti che come vi ho detto prima sono tutti quelli che vi ho elencato, qui abbiamo alcuni numeri che vi dicono l'importanza dell'export delle nostre aziende e abbiamo 600 miliardi di euro che sono il 32 per cento del prodotto interno lordo e se noi pensiamo che abbiamo 100 miliardi che sono fatti dalla contraffazione. Quindi anche questa cosa c'è assurdo se noi pensiamo che come made in Italy facciamo 600 miliardi noi e poi 100 miliardi lo fanno chi non è made in Italy ma utilizza questo brand per vendere poi prodotti contraffatti, prodotti che poi fanno scendere quella che è la qualità del made in Italy. Quindi come vi dicevo abbiamo tutti questi fattori che ci fanno essere competitivi, siamo i primi esportatori in Germania, siamo dei leader in Francia, in America è il nostro mercato più importante gli Stati Uniti fuori dalla comunità europea e quindi se siamo riusciti in nazioni come la Germania come la Francia dove non ci perdonano niente, lo vediamo in questi giorni cosa sta succedendo, vuol dire che l'imprenditoria italiana ha veramente delle capacità che devono essere messe a sistema e trovare il modo insieme di andare tutti a fare una strategia giusta per evitare poi dei fallimenti o delle perdite di soldi, quello che dicevamo prima. Sto andando veloce perché siamo un po' in ritardo e se no poi non riusciamo a stare nei tempi. Le regioni dove c'è più export sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte e la Toscana, poi ci sono tutte le regioni del sud che in questa classifica magari non si vedono ma perché stiamo facendo anche lì un lavoro molto importante, l'anno prossimo faremo tutto il nostro tour quasi prevalentemente nel sud Italia, quest'anno facciamo solo un passaggio a Roma perché è obbligato però abbiamo deciso di concentrare le nostre forze sul nord Italia perché siamo qui da dove siamo partiti e quindi abbiamo più focus sul nostro territorio. L'analisi interna come vi dicevo prima è il primo punto, abbiamo due tipi di analisi interna, c'è di analisi, una interna che è quella di capire come siamo posizionati prima di partire per fare questo viaggio e poi abbiamo l'analisi esterna che è quella, cioè che sempre fa parte dell'analisi ma è capire cosa incontreremo all'esterno, quindi l'analisi interna sono processi che possiamo governare noi e che possiamo sistemare, l'analisi esterna è capire cosa troviamo all'esterno che sono fattori che non possiamo governare ma dobbiamo conoscere per evitare di scontrarci con situazioni che non conoscevamo prima. Quindi bisogna analizzare i punti di forza, quali sono i punti di debolezza proprio per capire quelle che sono, qual è la fotografia dell'azienda. Quindi come vi dicevo è tutta l'analisi che dobbiamo fare, poi i prodotti strategici, dobbiamo decidere su quale prodotto concentrare le nostre forze, primo per vedere qual è il prodotto che ci dà più marginalità e ci fa rientrare prima dell'investimento e poi per avere un focus su un'unica famiglia di prodotti o su un prodotto solo per concentrare tutte le energie su quello per evitare poi degli sprechi di energie, di soldi e di non avere un focus preciso su quello che facciamo. La scelta del paese è altrettanto importante, quindi sapere un po' qual è il paese migliore che accetta il mio prodotto e tutto quello che possiamo portare. Poi l'analisi legale e fiscale, quello che dicevamo prima per evitare la contraffazione, per evitare che il nostro know-how venga utilizzato in modo non corretto eccetera, sono tutti fattori anche questi che dobbiamo conoscere bene prima. I costi, quindi avere un business plan che ci permette di capire esattamente quando rientriamo dell'investimento e quanto dobbiamo investire per poter arrivare a raggiungere il nostro obiettivo e poi l'analisi dei concorrenti, conoscere tutto quello che hanno fatto loro su questi mercati e soprattutto anche dei concorrenti stranieri che sono già andati in questo paese, quali attività hanno fatto per vincere in questo mercato. Poi abbiamo le opportunità e i rischi del paese, quindi sapere esattamente a cosa andiamo incontro, conoscere esattamente tutte quelle che sono le regole, le opportunità, i rischi che ci sono e poi in che modo iniziare, come e con chi, con chi è fondamentale perché prima di decidere cosa fare è bene decidere con chi farlo, al nostro interno, della nostra azienda ma soprattutto se ci affidiamo a consulenti esterni, avere persone di fiducia che ci permettono di raggiungere il risultato, quindi prima ancora della professionalità del consulente dobbiamo capire che siano delle persone che ci possono garantire una certa etica e una garanzia per arrivare a lavorare in un certo modo. La comunicazione adeguata al paese e quindi anche qui bisogna capire esattamente quelle che sono, qual è la comunicazione migliore in base al paese in cui dobbiamo andare e qual è l'abitudine e cosa dobbiamo fare in quel paese per evitare, perché tutte le nazioni hanno degli approcci diversi quindi dobbiamo essere pronti a comunicarlo in un certo modo. Poi abbiamo al decimo punto la valutazione dei contributi che ci possono essere, però ecco una cosa importante che noi diciamo sempre prima di andare a vedere quelli che sono i contributi messi a disposizione dalle varie istituzioni è capire noi vogliamo andare all'estero, ci crediamo veramente, poi dopo allora a quel punto è tutto più facile perché se abbiamo deciso di partire a quel punto troviamo anche i finanziamenti, ma non dobbiamo trovare i finanziamenti per andare all'estero, se no rischiamo di, cioè non diamo il giusto valore, perché noi abbiamo visto due anni fa avevamo un voucher che dava in vitalia quello sulla digitalizzazione, abbiamo preso dieci clienti, un cliente solo sarebbe andato comunque anche se non avesse il finanziamento, guarda caso è stato l'unico che comunque è andato avanti e che ha vinto sui mercati, gli altri nove hanno fatto, hanno usato i soldi fin quando c'erano, poi finito i finanziamenti, basta non sono andati avanti perché prima ci deve essere una voglia di andare sui mercati internazionali e crederci veramente prima di avere i soldi, perché se vogliamo andarci poi il modo lo troviamo, abbiamo le reti di imprese, abbiamo tanti modi per riuscire a vincere sui mercati internazionali, ma prima di tutto dobbiamo volerlo. Con i dieci comandamenti prendi in mano il tuo futuro e della tua azienda, io ci tengo in modo particolare perché credo che in questo momento storico noi imprenditori italiani abbiamo un compito veramente importante che è quello di contribuire a tenere alta la bandiera del nostro paese perché abbiamo tutte le opportunità e dobbiamo veramente creare, sforzarci di metterci insieme e di unire le forze perché è un momento particolarmente favorevole e che ci può permettere veramente di fare un salto di qualità. Le aziende italiane devono andare all'estero perché se no rischiamo col tempo di rimanere piccoli e di non riuscire a crescere, quindi il nostro compito è proprio quello di stimolare le aziende, con il club degli amici cerchiamo di stimolare e di portare un valore aggiunto con il nostro network che stiamo creando, noi faremo tutta una serie di eventi dove soprattutto noi scegliamo e i nostri collaboratori sono prima di tutto delle persone eticamente corrette che amano il made in Italy e che vogliono portare questa nostra peculiarità nel mondo. Quindi siamo veramente orgogliosi perché purtroppo siamo sempre criticati, siamo molto bravi anche a esaltare tutti i nostri lati negativi, però dobbiamo anche raccontare la verità che è un'imprenditoria sana dove può portare veramente fuori dai confini italiani tanto benessere, tanta cultura, abbiamo il paese che è il più bello del mondo e quindi dobbiamo veramente essere orgogliosi e valorizzare questa opportunità che ci dà il nostro brand. Adesso lascio la parola a Bruno Karenini che è uno stratega dell'internazionalizzazione che ci spiega quelle che sono secondo lui le attività più importanti da fare per poter vincere su questi mercati. Buonasera a tutti innanzitutto, sono Bruno Karenini, grazie al Presidente e all'organizzazione per avermi invitato e rappresento, sono partner di iG Corporation che è una multinazionale con sede a Londra, Los Angeles, Seoul, Madrid e Venezia e opera su quattro segmenti strategici, quello della consulenza strategica per gli investimenti, quello dell'internazionalizzazione, quello della parte legale e poi quello della comunicazione strategica. Parto cercando di trasferirvi quello che è la mia esperienza in 35 anni nei mercati internazionali oltre che a quello nazionale. Ho scelto ovviamente questo titolo perché vuole condensare il trasferimento della mia esperienza soprattutto agli imprenditori perché con gli imprenditori ho vissuto, ho cercato di imparare e quindi mi sono fatto un bagaglio culturale della loro esperienza ma l'ho anche comparata attraverso le istituzioni, attraverso gli organismi internazionali che adesso andrò a spiegarvi. Ho scelto questa frase perché dopo 35 anni di esperienza è decisamente emblematica. Il vero viaggio di scoperta non è vedere nuovi mondi ma cambiare ovviamente i nostri occhi, cioè il nostro modo di vedere e adesso poi capirete perché materialmente vado a dire questo. Innanzitutto dico che non insegno, imparo. Perché imparo? Imparo perché ogni giorno vivo dentro le aziende oltre magari in situazioni internazionali, magari governative o altro e attraverso i racconti, attraverso le problematiche, attraverso le esperienze che ogni imprenditore acquisisce, ogni manager ma anche ogni dipendente delle imprese mi sono fatto veramente un grande bagaglio culturale. Quindi per un senso di rispetto dico sempre che non sono qui a insegnare niente a nessuno, cerco solo di trasferire la mia esperienza. Mi chiamo Bruno Karenini, arrivo dalla comunicazione, sono un giornalista, parto come giornalista, poi mi sono occupato di politica istituzionale, non ho mai fatto politica attiva, sono stato capo di gabinetto di un ministro a 25 anni e quindi ho imparato il linguaggio burocratico, tecnico, politico che mi sarebbe servito successivamente per aiutare le imprese e gli imprenditori a parlare un linguaggio diverso nel momento in cui dovevano ottenere qualcosa proprio dalle istituzioni. Ho vissuto all'interno dell'imprenditorialità, sono un attivista della Human Rights a New York, faccio azioni umanitarie nel corso dell'anno per poter capire anche quali sono le problematiche ad esempio nel terzo settore e quindi dare degli input corretti anche agli imprenditori. Ma soprattutto mi considero un cittadino del mondo perché i primi anni che mi sono trasferito a Roma le persone più anziane nel RAI ma anche nel mondo politico e nel mondo imprenditoriale mi dicevano solo una cola, una cosa, vedi quando arrivi nelle città del mondo, considerate che ogni due anni ho cambiato residenza nelle più grandi metropoli di tutto il mondo proprio per lavoro, mi dicevano cerca per favore di non fare il furbo, non prenderti la cartina e non andare a vedere i monumenti, non c'è bisogno di andare a vedere i monumenti o di andare a vedere i pub, cerca di metterti fuori dalle trattorie, vai dentro i bar, vai fuori dalle università, vai nelle piazze, siediti e parla con la gente locale, parla con gli imprenditori, parla con gli operai e cerca di acquisire il più possibile. Ed è stato per me un viaggio di scoperta straordinario perché effettivamente ognuno mi dava una versione diversa di quello che io ascoltavo nei telegiornali o leggevo magari sui giornali, sui quotidiani dove cercavo di documentarmi e lì ho imparato a capire che se vogliamo capire, parlare la stessa lingua e cercare di integrarci all'interno di un paese dobbiamo senza dubbio parlare con le persone. Quello che ci viene detto non sempre configura la realtà e voi capite che quando un imprenditore deve investire del denaro per commercializzare o fare un investimento produttivo non può scherzare con tutto questo anche perché rischia di mettere a repentaglio quello che ha già in Italia. E quindi avere un quid in più che arriva proprio da una conoscenza locale è sicuramente un sinonimo non dico di successo ma di un abbattimento del rischio. Quali sono le criticità italiane? Perché sono qui a trasferirvi tutto questo? Perché ovviamente 35 anni di attività mi ha portato ad avere un quadro preciso di quelle che sono le lacune dell'imprenditorialità italiana, anche i punti di forza, ma ho cercato di concentrarmi su quello perché molte volte da Confindustria a tanti altri mi chiedevano proprio questo tipo di iniziativa. A un certo punto ho detto una di queste lacune è quella di non riuscire a fare squadra, non riuscire a fare team. E quindi perché non creiamo un distretto di completamente italiano di imprenditorialità? Il problema era portare la subfornitura, quindi le piccole e medie imprese nelle quali io sono proprio specializzato. Io ci credevo, ovviamente mi hanno preso per pazzo e quindi per due anni non si è sentito nessuno. Poi è arrivata una telefonata, ero all'ufficio studi di Confindustria a Roma e mi hanno detto ci sarebbe Fiat che sarebbe interessata a fare questo tipo di esperimento. Ci abbiamo provato ed è riuscito, quindi partendo da lì ho aiutato nella realizzazione di quattro distretti industriali. Il primo appunto in Brasile a Piricicaba per il settore dell'automotive, il secondo a Mandidip in India sul tessile, il terzo e il più grande di tutti a Radomsko in Polonia con la ex indesi di Merloni per gli elettrodomestici e l'ultimo a Dubica nella Bosnia-Herzegovina subito dopo il conflitto nel settore del tessile. Le crisi dei mercati esistono oggi nel 2023? Sì, esistono parzialmente, dove vogliono farcele vedere. Che cosa stiamo vedendo dai dati che ci vengono forniti in linea generale? Sono stata un'assemblea generale a Francoforte non più tardi di un mese fa. I dati sono estremamente positivi, quelli italiani soprattutto, se non ci fosse stata la pandemia il nostro paese sarebbe stato direttamente il locomotore di tutto il continente europeo. Quindi l'economia sta girando, è solamente col freno a mano tirato per tutta quella serie di turbulenze che ovviamente stiamo vivendo. Ma la realtà è che questa crisi dei mercati di cui tanto si parla, un po' la mania anche dei miei colleghi di fare catastrofismo per creare anche un sentimento di paura e frenare, in realtà non c'è. Internazionalizzare, questa è un po' la parola d'ordine che, come ho scritto anche in un articolo questa mattina, va di gran moda e viene utilizzata in momenti particolari. Dopo il 2008, quando c'è stato lo scandalo della Lehman Brothers, tutti quanti andavano e cercavano di internazionalizzare. Qualcuno perché voleva farlo seriamente, voleva provarci, qualcuno perché voleva evolvere, molti altri perché consideravano l'internazionalizzazione, per sentito dire, un po' il salvataggio, l'ultima spiaggia e quindi in certi casi le situazioni non sono state certamente brillanti. C'è una differenza però tra l'internazionalizzare e il commercializzare. Cerco di andare un po' alla svelta perché devo dare poi anche la parola ai colleghi. L'internazionalizzazione, quindi l'internazionalizzare, è un processo molto più lento, un processo che richiede del tempo, non è come andare al mercato e vendere del pesce, dove io ho il pesce, lo vendo e immediatamente ho dei ricavi. L'internazionalizzazione prevede tutta una serie di conseguenze e di elementi che rendono molto più complesso questo tipo di processo e quindi pensiamo a un'integrazione e non un'aggregazione, mentre la commercializzazione è solamente un adeguamento a quelle che sono un po' le normative locali. Non abbiamo bisogno chiaramente di integrarci, possiamo semplicemente permetterci di tenere in considerazione quelle che sono le normative, ma possiamo anche decidere di isolarci, restare fuori dal contesto sociale. Ecco, questa è la domanda che mi viene posta con maggiore frequenza. Tutti possono internazionalizzare, tutti possono abbattere le barriere dell'internazionalizzazione, molti dicono no, è una questione di costi, no, è una questione di dimensione, le piccole e medie imprese sono forse molto più penalizzate. La realtà è che dopo 35 anni di esperienza posso dire che non è questione di dimensione e nemmeno di capacità economica, almeno questa è la mia personale opinione, ma è una questione di metodo e il metodo prevede diverse situazioni, di cui anche Flavio ha citato prima. I pregiudizi, i pregiudizi contano molto nel fattore dell'internazionalizzazione. La risposta è sì, sapete perché? Perché noi paghiamo lo scotto di chi ci ha preceduto. Noi abbiamo degli imprenditori che molte volte sono falliti nel nostro paese, sono l'anima poco sana di questo paese e quindi per tentare di ricostruirsi, cosa lecita nella loro vita, prendono e vanno all'estero. Peccato che quando arrivano in questi paesi adottano lo stesso sistema che avevano in Italia, cioè quello ovviamente dove il migliore è quello che riesce a far fessi tutti quanti. Quindi con questa tipologia di integrazione, come la chiamano loro perché dicono che si integrano nel paese dove vanno, creano un danno a tutti quelli che arrivano dopo. E quindi quelli sani che arrivano e cercano di mettere qualcosa di concreto in quel paese, si trovano molta reticenza, molta diffidenza e ci mettono molte volte il doppio per realizzare quello che devono fare. Gli istituti di credito che sono diffidenti, le parti politiche che magari vengono coinvolte per dei finanziamenti a fondo perduto o altro sono altrettanto diffidenti e gli stessi lavoratori che devono andare a operare in quelle aziende aspettano alla finestra che succeda qualcosa. Quindi uno degli elementi sicuramente pesanti che influisce nel risultato di un'internazionalizzazione è il pregiudizio. Il secondo, come vi ho detto, è quello di non avere fretta. La consulenza non può essere parola. Perché lo dico? Perché anche in Italia, io stesso sono un consulente, però siamo stati un po' in un certo senso avvantaggiati quando c'è stata quella crisi nel 2008, perché probabilmente sono state tagliate molte foglie morte del ramo. Ma in quella circostanza, molti che magari fino al momento prima avevano fatto tutt'altro, hanno pensato di improvvisarsi consulenti. Perché oggi funziona così in questo paese, no? La professionalità viene messa sotto le scarpe. Oggi i talent, i social, tutti sono diventati chef, sono diventati conduttori, sono diventati qualunque cosa. Perché abbiamo perso il senso della realtà, cioè quello della competenza, dell'acquisizione con sacrificio, della capacità e dell'esperienza. E quindi anche la consulenza, a mio modesto parere, è investita di questo problema. E quando una società, una piccola media impresa, che deve fare i conti con i propri introiti per investirli adeguatamente in un'operazione commerciale, dovrebbe porre molta attenzione quando si porta a casa un consulente o una società di consulenza. Andare a verificare le referenze, verificare ad esempio tutto quello che viene detto. Se firma un contratto, mettere in campo un'azione di monitoraggio di quelli che sono gli step. I consulenti sono molto bravi con le parole, ma dovrebbero esserlo altrettanto con i fatti. E quindi portarsi a casa una società di consulenza, un consulente di spessore, ha sicuramente e fa sicuramente la differenza. Il consulente non può essere un soggetto che arriva classicamente con la valigetta 24 ore, oggi con lo zainetto come il mio, e si preoccupa semplicemente di raggiungere un budget prefissato che gli è stato dato dalla società. Perché oggi la maggior parte dei junior punte a questa, d'altronde ha delle pistole puntate da parte ovviamente dei dirigenti e devono fare budget. Il consulente che deve fare internazionalizzazione è un consulente che a mio parere deve essere integrato nel sistema. Che cosa significa? Significa che io quella realtà aziendale la devo conoscere, significa che io quell'azienda devo averla visitata, devo essermi fermato a parlare con i dipendenti, devo aver passato ore a capire come quella struttura è nata, si è evoluta e che piani di futuro ha nella propria testa. Io devo indossare la maglia, il giubbetto di quell'azienda, altrimenti parzialmente sono un consulente. Attitudine alle relazioni umane. I consulenti nella maggior parte dei casi, soprattutto quando hanno un'anima finanziaria, tendono ad arrivare ai numeri. Peccato che tutto il mondo stia dicendo, partendo dalla generazione Z e dai millennial, che il capitale umano sta tornando al centro dell'attenzione e quindi le soft skills sono effettivamente tornate al centro dell'attenzione. Quindi è impensabile arrivare ad un processo di commercializzazione o internazionalizzazione senza tener conto delle attitudini e alle relazioni umane del vostro consulente. Buon senso, etica nella conduzione delle trattative. Che cosa abbiamo visto in questi 35 anni? Che le aziende che hanno dimostrato nei paesi esteri la curiosità del bambino, cioè anche l'innocenza di affidarsi a quello che è un terreno inesplorato e che hanno avuto la passione del nonno. Quindi esattamente quella forte motivazione sono coloro che hanno resistito. Come ho detto prima la generazione Z vuole sapere e i millennial vogliono dei risultati. Oggi ai vertici di multinazionali, grandi imprese che dovrebbero acquisire proprio i terzisti nuovi fornitori ad esempio di piccole e medie imprese ci sono 45 anni. Noi abbiamo imprenditori con tutto il rispetto, io ne ho 62 quindi ok, che ne hanno ancora 70. L'altro giorno avevo un imprenditore che ne aveva 91, aveva ancora il potere di firma e stava seduto al tavolo con i figli che ne avevano quasi 70. Questo per dirvi come possiamo riuscire a parlare la stessa lingua dove questi manager, questi direttori degli acquisti hanno 45 anni, passano le giornate a verificare sui tablet e sugli smartphone le informazioni. La prima cosa che fanno, chiamano un loro assistente e dicono questa società ha richiesto di diventare fornitore. Allora voglio immediatamente un dossier, qual è il dossier, che cosa voglio sapere? Voglio sapere se quello che mi hanno detto dentro il sito internet corrisponde al vero. Voglio sapere esattamente che cosa fanno durante il giorno. È vero quello che hanno detto, andiamo a verificarlo nei social. Nei social ci deve essere l'anima dinamica della società e molte volte le piccole e medie imprese bucano ad arrivare per essere fornitori nelle grandi imprese. Proprio per questo motivo, perché parlano due lingue completamente diverse. Molti hanno criticato l'intervento del garante, ma il garante ha saputo guardare proprio dove guardano queste due generazioni. Anzi, noi in Italia abbiamo fatto quello anticipando i tempi che coloro che hanno creato iChat e GPT si sarebbero trovati fra qualche mese quando sarebbero andati chiaramente in Unione Europea in termini. Oggi moltissimi paesi dell'Unione Europea stanno ringraziando il garante italiano per aver posto il problema, perché voglio ricordare che il dato, la privacy, è uno dei temi più sensibili e richiesti dalle nuove generazioni. Ricerche di mercato, accelero. Perché paghiamo 10.000 euro, 15.000 euro, 8.000 euro per una ricerca di mercato? Quando ci arrivano molte volte 300 pagine di ricerca, che francamente sappiamo leggere al 50%, che sono nella maggior parte dei casi a volte dei template personalizzati, e poi come piccola media impresa dobbiamo affrontare questo tipo di intervento. Non sarebbe più utile pagare il consulente perché materialmente ci trasferisse degli strumenti che mettano in grado i nostri collaboratori di adottare e riprendere questo tipo di informazioni? Dobbiamo anche imparare a utilizzare meglio gli strumenti istituzionali. Molte volte io domando all'impresa, si è rivolta all'ambasciata, ha parlato con il consolato, no ma io sono una piccola media impresa, beh allora sappia che l'ufficio commerciale dentro l'ambasciata italiana è quello che materialmente rispetto all'ambasciatore si siede una volta a settimana con i ministri ed è quello a conoscenza magari dei piani quinquennali di intervento e di sviluppo, è quello che muove tutto il movimento economico. Oppure in paesi particolari lavorare attraverso un'ambasciata o un consolato ci mette nella condizione di essere protetti. Vuol dire che qualcuno prima di fare il furbo sapendo che comunque alle spalle abbiamo un'ambasciata o un consolato ci tratta molto meglio e questo è un altro fenomeno di garanzia. Ovviamente le regole sono cambiate e non tutto va per il verso giusto. Il 32% delle aziende italiane negli ultimi cinque anni hanno fallito il processo di internazionalizzazione. È un dato abbastanza importante ma questo deriva appunto dalla facilità di improvvisazione. A volte decidono di prendere un percorso sbagliato perché hanno sentito dire che in quel paese era tutto molto facile o perché c'erano altre aziende o perché hanno partecipato a delle fiere hanno conosciuto qualcuno che non hanno mai né visto né sentito che si è spacciato per qualcuno di importante e gli ha detto vieni ci penso tutto io. Basso costo della mano d'opera, contributi a fondo perduto che è oltretutto anche molte volte un miraggio per molti perché se non avete una società seria alle spalle vi viene spacciato che il contributo domani mattina l'avete. Mentre non solo c'è un problema di portare a casa il decreto di concessione ma il problema è l'erogazione e secondo i nuovi metodi di erogazione sono delle parti molto critiche. Quindi rischiate di andare a vuoto. Ecco perché torno a ribadire l'importanza di una consulenza davvero di spessore. Vado un po' avanti. Gli insuccessi come vi ho detto derivano non solo da un fallimento nel senso che è stata investita una cifra che poi pesa di ritorno sulla casa madre italiana e quindi di conseguenza fa rivedere la questione. Fa chiudere l'esperienza estero e da quel momento in quell'azienda non si parla più di internazionalizzare e ancora ancora si tira avanti con la commercializzazione. E poi c'è un po' questo fattore no? Anche quando commercializziamo e cerchiamo di aprire magari un ufficio commerciale là. Noi dobbiamo dircelo. Io ho 35 anni che giro in giro e quindi di aziende ne ho accompagnate tante. A volte mi sentivo in imbarazzo. Perché? Perché abbiamo un po' questo istinto di considerare una colonizzazione quando noi andiamo negli altri paesi. Io sono sempre il migliore. Cioè noi siamo quelli perfetti. Molte volte noi riusciamo a fatica a comprendere che il paese dove ci troviamo abbia le sue leggi, abbia la sua cultura, abbia i suoi esperti in materia. È capitato moltissime volte di trovarmi al tavolo con degli ingegneri, con degli amministratori delegati italiani che alla prima considerazione sbagliata fatta dagli interlocutori decidevano di alzarsi e di andare via. Perché non accettavano di mettere in mano a quello che la legge prevedeva. Quindi c'è un po' questa abitudine pessima di considerarsi i migliori. Vince la qualità non l'ossequio. Anche in questo caso molte volte noi siamo eccessivamente ossequiosi mentre gli altri sono un po' più freddi e questo non ripaga quando dobbiamo portare a casa delle commesse. Vietato il gioco delle tre carte, inutile dirti perché chiudono dando la mano all'interlocutore e dopodiché escono da lì e la mattina dopo sono su altri tavoli ad aprire altre trattative e questo è sicuramente un fattore penalizzante. Confrontarsi per crescere, non c'è l'abitudine di farlo, verrà trattato dopo quest'argomento sulla questione della sinergia italiana e poi ovviamente c'è anche il discorso di come dobbiamo trattare e arrivare alla definizione del nostro affare. Generalmente le trattative falliscono perché si parte immediatamente dai punti dove ci sono delle divergenze. Io ero giovanissimo come vi ho detto, era il 1988-85 e a quei tempi c'era Andreotti, Forlani, Craxi, Demita e Andreotti era un ragazzino e mi disse una cosa molto importante, quando c'è un problema, quando c'è una difficoltà e vuoi riuscire ad avere successo in quella trattativa parti immediatamente sui punti dove siete tutti d'accordo. Se io so in questo caso che c'è qualcuno che è juventino, ovviamente avrò un approccio completamente diverso rispetto a sedermi con uno che è milanista, ma se so che è milanista l'ultimo degli argomenti che vado a toccare è quello del calcio. Questo applicato in altri paesi quando siamo seduti per portare a casa delle trattative importanti è una carta vincente, cioè distendere l'ambiente, creare l'ambiente adatto per poter mettere poi in fila tutti quelli che sono i problemi e l'atteggiamento di rispondenza psicologica dell'interlocutore è sicuramente diverso e cambiato e magari non si trova una soluzione definitiva ma ci si arriva molto vicini. Quando abbiamo finito tutto, abbiamo portato i nostri prodotti o abbiamo aperto i nostri impianti e spedito i prodotti nel caso abbiamo messo un'azienda produttiva, dobbiamo però renderci visibili come diceva prima Flavio. È impensabile che ancora oggi molte volte io sento qualcuno o qualche imprenditore che mi prende in disparte e mi dice dottore però mi raccomando non deve sapere niente nessuno. Scusate ma io lo guardo in un mondo dove tutto è visibile, dove tutto è social, pensare ancora di fare le cose per non farle sapere al nostro vicino è veramente impensabile. Quindi l'orgoglio deve tornare ovviamente a macinare le nostre capacità. Bisogna partecipare a manifestazioni pubbliche ed avere l'orgoglio di esistere. Ma la condizione centrale dopo la pandemia è proprio questa. L'uomo, l'imprenditore, torna al centro dell'iniziativa e quindi come ci torna? Ci torna esattamente come i nostri nonni facevano con la valigetta. Non si preoccupavano di avere l'abito firmato, contavano sulla loro personalità, attenzione non ho detto prodotto, perché oggi il prodotto non è l'unico elemento a livello globale dove materialmente si può vincere la sfida. Ma è tutta un'altra serie di elementi dove l'uomo deve riprendere appunto la propria personalità, la propria identità e in questo noi italiani dobbiamo essere maestri perché abbiamo una grande creatività, un grande orgoglio e dobbiamo eticamente cercare di renderci visibili in tutto questo. Se torniamo con questa volontà, se torniamo anche con una concezione etica sicuramente riusciremo a riportare in alto anche il made in Italy che è lì pronto ad aspettarci perché i dati come ha detto Flavio sono veramente straordinariamente alti, l'appetibilità su tutti i mercati è molto alta. Io vi ringrazio se avete poi bisogno di me, potete chiedere direttamente a Flavio. Grazie. Eugenio Ferrari, ti ringrazio in modo particolare perché è partito da Modena con mille problemi pur di essere qui con noi a spiegarci l'importanza delle reti di impresa e l'importanza di mettersi insieme. Ringrazio anche l'amica di Azimut che è arrivata da Roma in questo momento, grazie ma ci mancherebbe. E tutti voi ovviamente che siete qui presenti, che è arrivato da Firenze, bravo. Eugenio Ferrari ci parla, quindi come dicevo prima, proprio dell'importanza delle reti di impresa lui è presidente di Assoreti PMI, ecco una peculiarità del Club degli Amici è quella proprio di noi ci rivolgiamo alle piccole e medie imprese perché sono l'ossatura della imprenditorialità italiana, il 95% delle nostre aziende sono micro imprese e quindi il mettersi in rete e unirsi può veramente fare la differenza per approcciare i mercati internazionali. Buonasera a tutti e grazie per questo momento di condivisione, ovviamente ho sentito cose di grandissimo interesse. Cercherò rapidamente di fare una carrellata su che cosa è il contratto di rete, su che cosa vuole dire aggregarsi e quali possono essere i vantaggi e li vediamo insieme. Diciamo che come panoramica generale, scusate torno indietro, il 95,1% delle imprese italiane come si vede non raggiunge i 9 dipendenti, questo già in sé è un dato che credo che ci debba far pensare alla necessità di poi anche come ho già sentito di aggregarsi, di fare sistema per poter raggiungere almeno delle dimensioni sufficienti e necessarie per fare delle operazioni complicate e anche molto delicate come diceva chi mi ha preceduto per processi di internazionalizzazione che non vuole dire ovviamente esportare, non vuole dire vendere ma vuole dire insomma creare proprio un processo anche culturale dell'azienda sotto molti aspetti. Le aggregazioni ovviamente c'è una definizione economica per cui l'aggregazione è coesione e unione volontaria tra aziende derivanti d'accordi per realizzare o trovare soluzioni a un'attività complessa e poi chiaramente dal punto di vista aziendale è una pluralità di relazioni anche contrattuali tra più imprese e in questo caso per raggiungere obiettivi condivisi in questo caso parliamo già del contratto di rete sostanzialmente. Gli obiettivi sono apportare miglioramenti alle attività messe in comune, rafforzare la posizione competitiva di ogni azienda, diminuire i costi di transazione fra aziende costituenti e il gruppo e ovviamente anche a migliorare soprattutto quelle che sono i deficit che derivano dalle piccole dimensioni e ho anche inserito limitare la concorrenza, beh questo per forza perché quando un'azienda è piccola si ritrova all'interno di un mondo in cui la concorrenza diciamo diventa un po' la regola e quindi fare massa critica, aggregarsi con altre imprese vuole dire anche affrontare questi aspetti. però è necessaria una forte capacità, intensità di collaborazione, di saper collaborare, quello che io per esempio chiamo il mindset di rete, cioè bisogna affrontare questo tipo di percorsi attraverso un processo di interiorizzazione del fatto che si sta collaborando con altri, con altre imprese e poi vedremo oggi la grande novità è il fatto che le reti di imprese si costituiscono non solo tra imprese così come diceva il contratto nella sua accezione iniziale ma anche tra professionisti. Poi vedremo alcuni esempi e la cosa interessante è che i componenti della rete non perdono la loro autonomia e questo va sottolineato perché tante volte ci viene detto sì ma se io entro in una rete automaticamente vengo fagocitato da qualcuno oppure mi ritrovo perdendo quella che è la mia autonomia. No, la rete è un sistema organizzato che deve servire proprio per fare in modo che i benefici che la rete riesce a creare ricadano sulle singole imprese che ne fanno parte, le quali proprio anche per questo motivo non perdono la loro autonomia ma possono lavorare di concerto. Ecco, pensiamo a una rete come se fosse una sala di concertisti che ognuno suona uno strumento e il risultato deve essere quella, diciamo, quell'opera o quella musica intonata ed efficace. Quindi non si va verso una fusione economica ma semplicemente verso una aggregazione che si stabilizza nel corso del tempo e quindi a differenza di altri meccanismi associativi come le HATI o che sono associazioni tra imprese che servono sostanzialmente solo per una singola operazione, la rete è un meccanismo organizzativo che dura e si stabilizza nel tempo. Sto cercando di andare velocemente perché capisco che sono anche cose che andrebbero affrontate con più tempo però ecco, diciamo, che tornando alle aggregazioni possono basarsi su rapporti informali, contrattuali o patrimoniali. Nel nostro caso siamo sui rapporti contrattuali e questo è uno specchietto che, diciamo, metteva in contrapposizione ad esempio i consorzi, le associazioni di partecipazione, i patrimoni, ma in questo caso stiamo parlando di aggregazioni che hanno ottenuto una personalità giuridica, sono essi stessi persone giuridiche, dalle reti che invece possono avere soggettività o anche non avere nessuna soggettività. In sostanza rimangono un contratto che regola, diciamo, le funzioni delle singole imprese che ne fanno parte. Poi qui vorrei andare velocemente perché mi piacerebbe arrivare a delle slide che ritengo più vicine a quello che ci dobbiamo dire in questo nostro contesto. Chiaramente queste erano slide che io ho usato, mi scuso anche per averle mantenute, ho usato in corsi di formazione ma vorrei entrare subito nel concetto più vicino a noi che è quello del contratto di rete. Il contratto di rete si caratterizza per essere meno rigido e più performante e più strategico di un consorzio di medio-lungo periodo e non è per una sola occasione come nel caso delle ATI e che possa aggregare imprese e settori anche molto diversificati. Oggi ci sono anche i liberi professionisti e ci sono dei settori che se voi ci pensate, ad esempio un'impresa nell'ambito dell'edilizia che raggruppa, non so, quattro imprese che fanno costruzioni, è normale che all'interno di questa rete ci possa essere anche l'architetto, l'ingegnere o il geometra. Quindi oggi attraverso una circolare del MISE si è arrivati a stabilire la possibilità che anche i professionisti e anche i consulenti partecipino ai contratti di rete, così come le imprese, cosa che all'inizio era riservata solo appunto alle imprese. Tra l'altro il processo di aggregazione potrà favorire in un secondo tempo anche la creazione di un agnuco, quindi molto spesso si sente dire che la rete è il fidanzamento prima del matrimonio. Questo può essere ma molte reti, anzi quasi tutte le reti che noi abbiamo processato e che abbiamo creato non hanno poi fatto questa trasformazione, cioè non si sono trasformati in un agnuco, hanno continuato a essere una rete di imprese proprio perché quella flessibilità che il contratto di rete consente evidentemente piace a tutti i componenti della rete, quindi non si sente il bisogno di una fusione che possa diventare un agnuco. Quindi che cosa dice il contratto di rete? Adesso lo leggo in maniera un po' più precisa. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano sulla base di un programma comune a collaborare in forma in ambiti predeterminate tenenti all'esercizio delle proprie imprese e a scambiarsi informazioni di natura industriale, commerciale e tecnica e ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Cioè in sostanza con il contratto di rete si mettono per iscritto le regole che però devono essere finalizzate, quindi non è una collaborazione e basta, ma devono anche essere in grado di aumentare la capacità innovativa e la competitività di quelle imprese sul mercato. Questa è un'altra slide ripetuta. Quindi sono diventati i contratti di rete uno strumento sempre più utilizzato per soddisfare che cosa? Quello che si è detto, quello che ha detto Flavio, quello che ha detto il dottore, cioè la eterogeneità del sistema economico italiano, l'eterogeneità sia dal punto di vista dei settori sia dal punto di vista delle dimensioni. In una rete non ci sono problemi a mettere insieme aziende più grandi, aziende più piccole, anzi molte volte proprio da questa presenza di aziende più strutturate, anche le piccole imprese che fanno parte della stessa rete possono avere dei benefici anche in termini di cultura, cultura d'impresa, cultura organizzativa. Qual è la causa giuridica? Il perseguimento dell'obiettivo strategico in termini di accrescimento della capacità delle imprese associate e l'oggetto è la realizzazione di un programma comune che per esempio potrebbe essere l'internazionalizzazione ma non solo. ci sono sostanzialmente tre tipi diciamo di contratti di rete, li vediamo, un primo contratto è la rete cosiddetta contratto che si può anche creare attraverso un atto firmato digitalmente usando una modellistica standard del ministero. non è titolare di soggettività quindi non è una partita IVA ma ha un codice fiscale ovviamente per gli acquisti, la costituzione del fondo comune è facoltativa, è prevista una redazione di una situazione patrimoniale. Diciamo che in questo caso i retisti rimangono tra di loro autonomi per quello che riguarda il ciclo attivo e passivo quindi ogni ognuna delle aziende che fa parte di questo contratto di rete nella forma della rete contratto dovrà avere una propria contabilità che regola diciamo il proprio ciclo attivo passivo anche all'interno della rete. Poi c'è la rete soggetto, in questo caso passiamo a una rete molto più strutturata, cioè una rete che deve essere costituita con atto notarile, che deve avere un fondo comune, che è titolare di soggettività tributaria quindi con un'unica partita IVA si regola il ciclo attivo e passivo di tutte le aziende che fanno parte della rete. Deve presentare un bilancio entro due mesi dalla fine dell'anno contabile e una nota integrativa quindi si avvicina molto alla forma societaria, alla forma consortile, però rimane una rete, una rete vuole dire che ha le stesse regole della rete contratto solo che ha come aggiunta che il legislatore nel 2012 ha voluto conferire a questa tipologia di rete, ha voluto aggiungere appunto la soggettività e questo in alcuni casi può essere molto vantaggioso proprio perché per esempio nel caso di mercati internazionali voi capite che se dieci imprese che costituiscono una rete si presentano all'acquirente cinese e poi ognuna di queste deve presentare una propria fattura è chiaro che l'acquirente dall'altra parte del mondo non capisce, cioè lui pensa di aver parlato quando parla con la rete pensa di aver parlato con un'unica entità, è chiaro che nel caso invece della rete con soggettività giuridica quindi con la partita IVA è come se parlasse esattamente con un unico interlocutore anche dal punto di vista degli scambi amministrativi contabili. E poi si è costituita con la legge 81 del maggio del 2017 la rete tra professionisti, però la rete tra professionisti può essere costituita validamente solo come diciamo aggiungendo la soggettività giuridica, cioè non può esistere una rete di professionisti così pura e semplice, la rete di professionisti è una rete che sarà sempre una rete mista perché dovrà comprendere all'interno almeno due imprese che possono in questo caso costituire soggettività giuridica e all'interno di questa rete costituita potranno aggregarsi anche i professionisti. Questo perché è stata costituita la rete mista che è quella tra professionisti? Per fare in modo che i professionisti possono partecipare in maniera congiunta alle gare d'appalto. Questo tipo di vantaggio che consente oggi ai professionisti di entrare in una rete è stato regolamentato da una circolare che è la 3707-C del MISE del 2018 che quindi ha stabilito che le reti miste possono esistere a patto che all'interno di quella rete non ci siano solo professionisti ma anche almeno due imprese che possono quindi conferire questo tipo di soggettività. Poi nei contratti di rete ovviamente bisogna considerare delle opzioni aggiuntive, cerco di andare velocissimo perché sono cose anche un po' tecniche, ricordo tra tutte il distacco del lavoratore. Il distacco del lavoratore che è presente nel nostro sistema economico anche tra aziende che non fanno parte di rete, in che cosa consiste? Io in presa distacco un mio lavoratore a un'altra impresa però qual è la particolarità? Che il vantaggio del distacco non deve ricadere sull'impresa che riceve il lavoratore per una particolare ma deve ricadere sulla parte distaccante. Ora nelle reti di impresa questo istituto giuridico che è stato introdotto con la legge Biagi assume il nome di distacco semplificato perché? Perché mentre nel distacco che avviene tra imprese che non fanno parte di una rete bisogna avvisare l'ispettorato del lavoro, fare una domanda e diventa un processo particolarmente delicato proprio per i meccanismi di tutela dei lavoratori. Per quanto riguarda invece le imprese che fanno parte di una rete non c'è bisogno di nessun tipo di giustificazione perché già il fatto di essere imprese che appartengono alla stessa rete fa sì che il distacco appunto sia semplificato, certo bisogna comunque dare comunicazione all'ispettorato del lavoro che si sta operando il distacco ma non ci devono essere motivazioni particolari. Quindi questo è una delle situazioni che spesso per chi conosce bene il sistema delle reti viene enfatizzato. Allora al 3 aprile i contratti di rete in Italia sono 8.431 con più di 45.000 imprese. Di queste 8.431 contratti 1.246 quindi il 15% circa sono quelli con soggettività giuridica che secondo noi sono quelli più adatti anche per l'export. Ci sono diversi grafici. Io faccio notare per esempio questo che le reti avvengono soprattutto o su base uniregionale oppure su regioni limitrofe o province limitrofe anche se nel contratto di rete non è indicato il fatto che ci debba essere una prossimità geografica per fare rete. Si può fare rete tra Bolzano e Messina in maniera estremamente valida. Ogni regione può valutare una propria propensione, questa diciamo è una slide indicativa da cui si scopre che non è la Lombardia o altre grosse regioni, non so l'Emilia-Romagna, ma il Friuli, la Valdosta e l'Umbria dimostrano una propensione nel fare rete più alta proprio per la differenza di numerosità delle imprese che fanno parte di quelle regioni rispetto ai contratti di rete e alle imprese che fanno parte di reti. Il settore più gettonato rimane comunque l'agricoltura, poi il commercio, le costruzioni e i servizi turistici. Poi via via andare c'è tutte le altre presenze di imprese nelle reti di imprese. Qui ci sono dei grafici in cui si voglia mettere appunto a confronto nei diversi settori, per esempio nell'agroalimentare le reti contratto sono molto più numerose delle reti soggetto, però come vedete nel commercio il 17% rispetto a un 28% nella rete soggetto, quello che si diceva prima. Per quello che riguarda il commercio sono favorite le reti che hanno acquisito la soggettività giuridica. I tratti caratterizzanti sono la fiducia, la condivisione del know-how, non c'è niente da fare, bisogna condividere per poter poi avere anche dei feedback, è una crescita culturale diciamo nel doppio senso di marcia. Valori sociali di riferimento comuni, certamente, però anche le differenze sono un valore alle volte di notevole interesse. Capacità di dialogo e confronto, questa direi che è... E infine, anche in rosso, ho messo questa domanda dell'imprenditore retista, il quale deve chiedersi il mindset di cui si parlava prima, se è disposto a rinunciare a un pezzo della sua sovranità imprenditoriale, per dare vita insieme ad altri a un progetto più ampio. E ancora, quelli di prima erano i tratti caratterizzanti relazionali, questi sono quelli operativi. Autonomia, abbiamo detto che le imprese rimangono autonome, pur facendo un'aggregazione tra di loro. collaborazione e complementarietà, dipende se stiamo parlando di filiera o di piattaforma commerciale, le relazioni sono stabili, è un processo geometria variabile, siamo in dieci imprese in una rete, non dobbiamo tutte e dieci fare la stessa cosa ogni volta, ma possiamo diversificarci all'interno della rete, per cui alcune imprese possono fare qualcosa, altre possono anche non partecipare a un determinato progetto. Non c'è un discorso di dover rinunciare a nulla entrando in una rete, bisogna impegnarsi un po', bisogna lavorare per quel gruppo, ma non c'è quello che si dice in termini economici il trade off e quindi si può lavorare tranquillamente. Ho quasi finito, quindi vi chiedo proprio i cinque minuti ultimi, quali sono i motivi che spingono gli imprenditori a fare rete? Beh, uscire dal senso di isolamento culturale, un'impossibilità di crescita per linea interna, negli anni nostri anni del dopoguerra c'erano tutte le condizioni anche di carattere finanziario, esogeno, mondiale, che hanno consentito la nascita di grandi gruppi. Oggi è difficilissimo, io dico anzi impossibile che la piccola impresa si possa trasformare in una grande impresa, certo può capitare, ma oggi la crescita può avvenire molto di più per linee esterne che per linee interne. Poi bisogna ovviamente voler condividere, è impossibile sostenere da soli l'accelerazione dei mercati globali, qui torniamo nel nostro tema dell'internazionalizzazione, la simmetria con i grandi player e poi altri vantaggi che adesso quelli erano i motivi, qui sono i vantaggi, la riduzione dei propri costi interni in economia di scala, è chiaro che quando siamo più imprese possiamo ovviamente fare fronte anche con delle economie di scala negoziali, è una maggiore visibilità e comunicarsi, la rete diventa anche uno strumento di comunicazione, consolidamento del livello di operatività delle imprese in rete, in alcuni casi si parla di miglioramento del rating, io ci credo fino a un certo punto, condivisione degli investimenti per obiettivi comuni, possibilità dell'internazionalizzazione di accesso ai mercati che singolarmente ripetiamo sarebbe quasi impossibile, possibilità di generare nuovi prodotti e servizi e quindi utilizzo di opportunità esclusive per le reti come abbiamo detto è distacco semplificato. Quindi in sostanza con la rete si può competere con realtà molto più grandi ma con economia di specializzazione rimanendo quindi piccoli. Qui io avevo tante slide anche di esempi di reti che sono state costituite molto interessanti nei diversi mondi, nei diversi settori come ad esempio il Buongusto Italiano che è una rete che fa circa un miliardo di cento milioni di fatturato quindi quando si parla di reti non è che si parla solo di piccole cose, di piccole strutture o qualcosa che non riesce a stare in piedi, l'AR sono 25 turismi di Bologna che hanno creato un sistema eccezionale soprattutto per quanto riguarda le loro economie di scala. Io comunque non voglio andare oltre, direi che ci vorrebbe tanto tempo per parlare di reti, noi siamo un'associazione presente su tutto il territorio italiano e anche all'estero, siamo presenti in Italia a 12 anni, vedo già tante persone che conosco anche proprio perché siamo sempre sui social network e quindi ormai siamo diventati posso dire un punto di riferimento per quello che riguarda il fare rete l'abbiamo voluto essere, abbiamo voluto diventare così proprio dedicandoci in maniera specifica a tutte quelle che sono le aree che compongono questa materia abbastanza complessa però oggi d'altronde, scusate, viviamo in un mondo di complessità e quindi la rete che è un sistema complesso probabilmente è uno dei sistemi più adatti per far fronte alla situazione complessa del giorno d'oggi. Grazie. Grazie. Laura Mazza è presidente di Feder Formazione, fa parte del Parlamento Europeo del Mediterraneo e grazie a lei il Made in Italy ha avuto un grande sbocco, un grande sviluppo, aiuta tantissime imprese e quindi per noi è un onore averti qui Laura e spiegaci bene quello che fai e ti lascio la parola. Grazie. Dobbiamo fare un click forse. Sì io tra l'altro ringrazio innanzitutto Flavio e il Club degli Amici perché queste iniziative sono dei momenti di condivisione ma anche dei momenti di riflessione. Quindi come segretario generale del Parlamento del Mediterraneo che ha una visione sia nell'euro mediterraneo ma anche sul territorio europeo internazionale questi appunto scambi e tra l'altro complimenti agli autorevoli relatori e mi piacerebbe con voi condividere un pensiero che va oltreoceano. Le imprese italiane sono l'eccellenza in vari ambiti come hanno anticipato i relatori sia dal punto di vista di competenza che dal punto di vista professionale ma soprattutto l'Italia, il Made in Italy è unico al mondo. Io sono un economista, mi occupo per la Commissione Europea di Progettazione Europea da più di 25 anni e tra l'altro ringrazio il referente del governo dell'Uganda che ci ha raggiunto perché uno degli obiettivi e i colleghi da varie parti d'Italia internazionali, uno degli obiettivi insieme anche a Flavio e al Club degli Amici è quello che poi le persone, le reti e attraverso le imprese, le associazioni di categoria o le associazioni comunque culturali ma le persone al centro di questo possano insieme costruire dei progetti internazionali. Noi abbiamo iniziato questo percorso dal punto di vista sia istituzionale che imprenditoriale, abbiamo accompagnato in 25 anni moltissime imprese italiane in quelle che erano inizialmente le delegazioni di accompagnamento tra l'Italia e i paesi esteri, inizialmente i paesi più vicini, quelli dell'Europa per andare poi oltreoceano e in paesi internazionali. Allora quello che mi piacerebbe dare a voi questa sera, che poi le slide vi arriveranno, è proprio un messaggio che la formazione, che tra l'altro è anche un po' l'amore della vita, è legato alla circolazione delle competenze. L'impresa per potersi affacciare nei mercati esteri, l'imprenditore deve innanzitutto, come appunto hanno anticipato i relatori autorevoli, poc'anzi, deve lavorare internamente su un'analisi insieme al club degli amici affiancati e supportati ad Assoreti, PMI, deve scegliere di voler fare una strategia, una strategia concreta, guardando e fotografando la posizione di partenza per crescere insieme o comunque disegnare insieme quello che può essere il percorso del prossimo futuro. Voi immaginate che nei giorni scorsi al Ministero dello Sviluppo Economico sono stati analizzati i passaggi generazionali delle imprese italiane, ma anche i dati statistici dal punto di vista di quello che è l'export italiano e i dati sono impressionanti perché noi non ci rendiamo conto di quanto l'export oggi, soprattutto dopo la fase pandemica, abbia aiutato e supportato le imprese a sopravvivere, soprattutto dopo la pandemia. La maggior parte delle imprese che hanno scelto di andare oltrooceano oggi hanno il 30 e il 40% del loro fatturato che è export. Che cosa vuol dire? I colleghi, mi permetto di definirvi così, vi hanno definito e raccontato l'esperienza personale, professionale, internazionale che sembra distante, complessa, ma con l'aiuto del club degli amici, delle istituzioni e dei professionisti e delle associazioni di reti, in questo caso di imprese di PMI, questo percorso può diventare reale e concreto, con dei risultati che sono sia per l'imprenditore ma anche per il capitale umano. Loro hanno indicato che l'impresa è fatta di persone, il capitale umano oggi è un capitale internazionale, anche nelle imprese italiane, quindi l'import-export è nelle nostre corde come Italia, siamo la perla del Mediterraneo, siamo nell'euro-mediterraneo, ci occupiamo di export come territorio nazionale da moltissimi anni, ma è sempre stato un asteroide rispetto all'attività delle PMI. Oggi è arrivato il momento di dare affiancamento e supporto alle PMI italiane, che sono in realtà il PIL dell'Italia, il 97% delle imprese italiane sono PMI, c'è l'opportunità di poterlo fare seguendo una metodologia, un percorso reale e concreto che il club degli amici ha definito come i dieci comandamenti, ma tutto questo è fattibile, è possibile ora e non è qualcosa che possa rimanere un percorso fallimentare, attraverso i professionisti formati e certificati che possano seguirvi a voi come professionisti, imprenditori, associazioni di categorie, tutti insieme si può creare questo ecosistema per uno sviluppo del mercato italiano verso l'estero che sia da una parte proficuo, redditizio, ma anche sostenibile, perché non dimentichiamoci che in questo momento siamo in una fase di transizione digitale, in una transizione ecologica, ma siamo anche in una transizione etica, quindi pensate 600.000 imprese estere in Italia, è un dato che probabilmente qualcuno magari non conosce, quindi noi abbiamo l'export ma abbiamo anche l'import, quindi oggi ci sono le imprese straniere che sono venute a investire in Italia o che hanno scelto di diventare soci o partner delle imprese italiane, quindi le joint venture di cui si parla che sembrano molto lontane sono concrete, la Lombardia, l'Italia, abbiamo delle eccellenze in vari ambiti e quello che oggi vorrei condividere con voi è che attraverso un percorso di formazione e di competenza professionale la PMI può scegliere la sfida dell'internazionale, ma solo se decide di condividere un'analisi, una strategia e un accompagnamento, è un percorso che si può fare insieme, insieme in squadra con l'obiettivo di soprattutto tra l'altro come vi dicevo uno dell'amore nel mio caso ma anche del territorio nazionale è quello di esportare la competenza, quindi i tavoli permanenti dove il club degli amici scelgono di fare questo roll show in Italia è proprio quel, stasera siete degli attori che partecipano a questo tavolo ma non in maniera passiva ascoltando tra l'altro i relatori autorevoli ma in realtà tutti voi dovete e potete oggi contribuire a questo cambiamento perché è un cambiamento epocale, pensate tra l'altro che ringrazio appunto il referente dei paesi africani che è qui, noi nella cooperazione internazionale o nei progetti di internazionalizzazione finanziati dalle istituzioni italiane, finanziati dalla Commissione Europea o finanziati dalla stessa Camera di Commercio Provinciale o dalla regione, regione in questo caso Lombardia o altre regioni d'Italia, i bandi, gli incentivi per le imprese oggi sono molti molto di più delle imprese che partecipano a questo per timore, per incapacità oppure per mancanza di un'analisi diciamo di una visione strategica. Noi abbiamo fatto dei progetti di food and beverage per la Cina, abbiamo portato le aziende nei paesi internazionali, io mi sono occupata di tutta quella che era la progettazione e l'accompagnamento economico, i risultati sono stati eccellenti ma solamente perché professionisti come i nostri relatori di questa sera o il club degli amici ci sono e fanno da tutoraggio di questo, quindi se qui questa sera e lo so che ci siete come imprenditori ma anche come consulenti di imprese o come associazione di categoria non abbiate paura dell'estero perché per esempio il mercato americano di cui parliamo, tra l'altro saluti anche da parte sia del console che dell'ambasciatore da Miami che oggi erano in conference call con noi, le imprese italiane, il Made in Italy all'estero è considerato una eccellenza in ogni ambito e settore e l'idea che arrivi una PM italiana è un desiderio da parte della maggior parte dei governi esteri e quando parlo di governi parlo proprio dell'unione tra le PMI, le associazioni che accompagnano le imprese ma anche le istituzioni, le ambasciate, i consolati, l'ICE stesso sono a disposizione delle imprese. Mi piacerebbe poi tra l'altro nell'arrivare alla conclusione farvi sorridere che in un progetto internazionale dove abbiamo portato 500 imprese italiane siamo arrivati dall'altra parte del mondo, in questo caso eravamo a Pechino dove le aziende desideravano nell'agroalimentare, nel food and beverage e nel mondo della moda internazionalizzare con un paese comunque come la Repubblica Cinese. Nel momento del confronto con il governo e con imprese locali qualcuno di loro ha confuso quelli che erano diciamo la direzione generale della nostra ICE, della nostra ambasciata italiana per i fattorini perché in quella giornata avevano collaborato nel portare quelli che erano i prodotti italiani insieme al governo cinese. Alla sera dello scambio Italia-Cina qualcuno ha riconosciuto che l'ambasciatore in realtà l'aveva confuso in mattinata per il fattorino. Questo per dirvi che all'estero i colleghi che sono tutti i giorni dall'Istituto di Cultura Italiano all'ICE al governo italiano e ai percorsi di incentivi che ci sono per le imprese sono pronti a supportare le associazioni, i contratti di rete, le imprese e anche i consulenti e ad accompagnarvi nel momento in cui siete nel paese straniero perché la stabilità geopolitica, la stabilità economica e il supporto bancario e finanziario sono alcuni degli elementi per il successo del processo di internazionalizzazione. Quindi il messaggio diciamo conclusivo di questa serata è quello di dirvi che il Club degli Amici c'è ora, ci sarà per accompagnarvi e che noi ci sentiamo parte della squadra. Allora per costruire e il mio sogno da segretario del Parlamento del Mediterraneo è riportare l'Italia al granaio dell'impero romano e quindi a diventare davvero la perla dell'euro mediterraneo e del mondo, lo possiamo fare solamente noi italiani. Noi abbiamo scelto di essere nel mondo i cittadini del mondo e di essere tutti i giorni insieme agli italiani in Italia e all'estero a informare, sensibilizzare e formare le risorse interne, gli imprenditori a questo cambiamento. Quindi da parte nostra disponibilità assoluta a fare squadra con voi, con il Club degli Amici, però la provocazione in questo caso da professoressa universitaria è anche quella di dirvi nel salutarvi che il tempo è scaduto se l'Italia vuole salvare le imprese italiane, le PMI e sottolineare la propria eccellenza nella tutela anche di tutto quello che è purtroppo oggi lo sciacallaggio del Made in Italy comunque purtroppo non garantito è anche una nostra responsabilità. Quindi noi abbiamo scelto di rappresentarvi nei tavoli internazionali quotidianamente e continuamente e vi chiediamo di sceglierci per fare questo percorso insieme, per costruire un valore condiviso collettivo per la nuova generazione dei nostri italiani e dei nostri figli di stranieri italiani, oggi siamo alla terza generazione e di costruire insieme una nuova umanità. Grazie. I dieci comandamenti che abbiamo visto prima nella mia vita precedente non li ho mai rispettati. Quindi ho fatto tanti disastri perché ho sempre avuto voglia di andare all'estero e un giorno nelle mie mille avventure ero in Croazia che non sapevo più neanche qual era la mia attività che dovevo fare, ero lì da solo e ho incontrato un mio vecchio amico Paolo Ruggeri che mi ha detto ma che cazzo fai, cosa facciamo? No dai devi riprendere, vediamo un attimino cosa fare e da lì pian pianino ho rimesso un po' insieme i pezzi di tutto questo puzzle e pian pianino ho ripreso tutte le mie attività fino ad arrivare al mio sogno che è quello del club degli amici. e quindi ho voluto, l'altro giorno ho sentito Paolo, non poteva venire per tanti motivi, però mi ha detto guarda c'è un campione a Milano che per OSM sta facendo dei numeri incredibili che sicuramente conoscete perché penso che una macchina da Rigoldi auto tutti noi l'abbiamo presa qualche volta. e quindi ho qui con me Giorgio Rigoldi che rappresento OSM e che per me prima di tutto è un amico perché fa parte di questa grande famiglia che è OSM, che aiuta gli imprenditori, che mi ha aiutato e che con loro stiamo portando avanti tante collaborazioni nel campo internazionale e quindi gli lascio la parola per spiegare un attimino qual è l'attività, qual è la sua mission e dopo durante l'aperitivo abbiamo anche un omaggio per tutti voi di una mia ex e attuale collega di Giorgio che ha scritto un libro sull'internazionalizzazione aperto OSM Spagna da poco e voleva omaggiarvi di questo suo manuale per l'internazionalizzazione dopo durante l'aperitivo si fermano tutti e possiamo approfondire qualunque argomento che volete e quindi lascio l'ultimo speech a Giorgio che tra l'altro ha 26 anni ed è una risorsa per il futuro Grazie mille Flavio per la presentazione, super! Buonasera a tutti, che onore chiudere la serata, non me l'aspettavo Quasi Quasi, esatto Allora mi ha chiesto Flavio l'altro giorno di preparare una piccola presentazione da una decina di minuti ho cercato di tirar fuori un paio di concetti che potessero tornarvi utili già da domani nella vostra vita da imprenditori e intanto vi faccio una domanda, chi qui, come vedete parliamo di persone, persone giuste, persone sbagliate chi di voi gestisce delle persone? Collaboratori, dipendenti, soci, interni, esterni, sulla mano chi ne ha? Benissimo, a me lo so che ho fatto un intervento che calza, no? perché sennò erano tutti da soli e allora me ne andavo quindi, oggi parliamo di questo, persone giuste e persone sbagliate mi presento proprio molto rapidamente mi chiamo Giorgio Rigoldi, ho 26 anni appunto quindi chiaramente non ho una trentennale esperienza nel mondo delle imprese ma ho una grande fortuna che la mia famiglia è piena di imprenditori dovrei avere la rubrica delle partite IVA che ci sono aperte nella mia famiglia e ho vissuto la vita dell'imprenditore, dell'imprenditrice vedendo mio papà, vedendo mia mamma, i miei nonni quindi ho vissuto in questo mondo e conosco da vicino, da familiare, da figlio le difficoltà dell'imprenditore e ho sviluppato un grande attaccamento agli imprenditori cioè io provo un'ammirazione enorme per chiunque faccia impresa per chiunque si metta a voler costruire qualche cosa perché come già detto sono convinto che gli imprenditori delle piccole e medie imprese soprattutto perché sono il tessuto dell'Italia siano quelli che portano avanti il paese che portano avanti tutta la nostra economia quindi quando ho trovato USM ho detto è figata, li aiutiamo a mettersi bene dritti quindi un'azienda ecco perché vi ho chiesto chi gestisce persone ovviamente un'azienda è composta di persone e il primo concetto che voglio che vi portiate a casa questa sera è questa frase oggi è il capitale umano a determinare il capitale economico quando l'ho visto ho detto ma in che senso e ci ho messo un po' a capirla davvero l'ho capita quando con un mio cliente che ha un'azienda su Alecco abbiamo messo giù le statistiche di produttività delle persone e c'erano queste due ragazze che facevano il customer care fissavano gli appuntamenti con i clienti e prima loro non monitoravano le statistiche quindi non la vedevano questa cosa e c'era una delle due che fissava cinque volte gli appuntamenti di quell'altra cioè questa era cinque volte più produttiva di quell'altra prima parlavo con Marco che diceva in questi io non conosco come fosse fare impresa 30 anni fa so che oggi le marginalità contano tanto che se non stiamo attenti ai marginalità l'azienda va a gambinare piuttosto in fretta e quindi vedete qui eravamo davanti a una situazione in cui una persona non si ripagava neanche la sua RAL l'altra invece trainava l'azienda e quindi vedete ecco in che senso il capitale umano determina il capitale economico in termini di utili, in termini di produttività in termini di espansione dell'azienda dobbiamo stare attenti al nostro capitale umano quindi la domanda è stai puntando sui giusti collaboratori? stai scegliendo le persone giuste per i tuoi progetti? che figata che c'è anche qua, non l'avevo vista stai scegliendo le persone giuste per i tuoi progetti? internazionalizziamo l'azienda, bellissimo stai scegliendo le persone giuste per assisterti in questo? è uscito anche prima prima chi poi cosa diceva prima Flavio l'ottavo comandamento prima scegli con chi vai poi scegli che cosa fai, che cosa vendi ma prima chi, poi cosa quindi ecco la seconda cosa che voglio che vi ricordiate da oggi il resto parliamo di questo è questo grafico qua cioè la distribuzione standard standard del personale all'interno delle aziende che cosa vi dice il 20% delle persone che compongono un'azienda mediamente sono i campioni chi è il campione? è quello che ti fissa 5 volte gli appuntamenti di quell'altro è quello che ti crea l'80% ma questo qui è anche il laser questo te lo rubo è quello che ti crea l'80% dei risultati sono quelle poche persone che con non soltanto con la loro produttività diretta ma con l'energia che portano in azienda te la trainano generalmente l'imprenditore è uno dei campioni dell'azienda di solito si spera poi abbiamo un 60% di medi i medi sono quelli che qualche volta fanno qualcosa bene qualche volta fanno qualcosa male non sono quelli che si prendono responsabilità di un'area che ti cambiano la vita però che comunque sono bravi fanno il loro lavoro ma non è che fanno il chilometro extra o che ti fanno i grandi risultati però sono la maggior parte delle persone che abbiamo e poi abbiamo questi qua voglio che li vediate bene tutti quanti fotografatele ragazzi questo grafico perché riguardatelo nei prossimi giorni 20% di qua sono gli scollaboratori cioè quelli che anziché collaborare scollaborano e ti creano l'80% dei problemi se voi fate questa vi propongo questo esercizio da fare poi per conto vostro prendete un foglio e ci scrivete tutti i problemi che avete nella vostra azienda tutti quanti ci metterete un'oretta quali sono i problemi che vivo voi vedrete che sono riconducibili sempre alle stesse due o tre persone se andate a scavare chi è che me lo causa chi è che me lo porta chi è che non lo risolve e dovrebbe risolverlo sono due o tre persone o se avete un'azienda da 100 persone saranno 15-20 quindi vedete qual è la cosa importante perché è così importante questo grafico? perché persone che si collocano in queste tre categorie vanno gestite in modo completamente diverso non possiamo sbagliare in questo il campione è una persona che va lasciata più sciolta bisogna dargli degli input bisogna incentivarla bisogna dargli grandi prospettive di crescita perché se no che cosa fa? secondo voi? se ne va si trova un'altra azienda che gliele dà se tu prendi un campione tutti quanti vogliamo i campioni ho sbaglio cioè non è che tutti vogliamo la gente scarsa tutti vogliamo i campioni però allora che cosa gli stiamo offrendo a questi campioni? cos'è che che chi possono diventare la nostra azienda? se vuoi i campioni devi aver chiaro questo prospettive di crescita per loro poi gli scollaboratori partiamo da qua i medi vanno motivati programmati formati costantemente sono la maggioranza dell'opinazione aziendale noi dobbiamo sapere che l'azienda di soli campioni non esiste ma per fortuna perché comunque sono tosti da gestire la maggior parte delle persone che abbiamo sono medi cosa dobbiamo fare? aiutarli a programmarsi dobbiamo motivarli perché un po' gli scende la catena ogni tanto dobbiamo formarli e dargli costantemente nuove competenze e nuova motivazione altrimenti che cosa succede? che man mano tendono a spostarsi sulla parte sulla parte sinistra del grafico che è quello che noi non vogliamo e poi abbiamo gli scollaboratori che vanno individuati in primi se spesso non è facile adesso vi do qualche spunto vanno allontanati dall'azienda o se non possibile a volte è difficile farlo tolti da ruoli di responsabilità e lasciati dove non possono fare troppi danni la cosa peggiore che può succedere in un'azienda è avere uno scollaboratore come responsabile tecnico chissà perché nel reparto tecnico c'è turnover ma non lo so forse sarà questo il motivo quindi vedete sia i campioni sia gli scollaboratori influenzano in modo importantissimo l'ambiente non soltanto l'ambiente la produttività dell'azienda quando tu entri in un'azienda fateci caso quando entrate nell'azienda vostra o quando entrate nell'azienda di qualcun altro quando entrate in un negozio quando entrate da un fornitore da un cliente la respirate l'aria che c'è o sbaglio vero o no cioè la senti vedi se c'è la receptionist che sorride o che è incazzata vedi se c'è il cameriere che viene lì con il sorriso e ti accompagno oppure come nel posto in questionato oggi mi lancia la tovaglia sul tavolo e mettite la tua va bene ci penso io 5 minuti in un'azienda capisce cosa c'è che va esatto ti rimane proprio ce lo senti quel sentore lì ecco questo è influenzato dai campioni e dagli scollaboratori ci sono più campioni ci sono più scollaboratori mentre vedete le performance dei medi dipendono in modo importante dalle persone che hanno intorno e da come vengono gestite metti un medio di fianco uno scollaboratore datti 3-4 mesi vedrai che diventa anche lui uno pesante metti un medio di fianco trainato da un campione vedrai che cresce vedrai che diventa uno forte quindi perché tutto questo? perché gli scollaboratori ti distruggono l'azienda te la devastano l'azienda muore quando viene lasciata in mano a troppi scollaboratori vedete io mi ricordo tante scene anche in famiglia di momenti di grande stress dei miei genitori di momenti in cui sono stati molto in difficoltà e alla fine com'è che si è risolta con persone che se ne sono andate via che sono uscite dall'azienda sono uscite dalla loro vita e hanno messo a posto le cose quindi anche se a volte sono produttivi sono una costante sorgente di preoccupazione per l'imprenditore voi pensate un po' quando siete fermi al semaforo e siete lì tranquilli che aspettate un minuto chi è che vi viene in mente che ti ha creato quel problema lì che ti crea quella preoccupazione che torni lì col pensiero quando ascolti qualcuno che parla un po' lento che ti estrani dalla conversazione a chi stai pensando ecco inizia a partire le domande scrivete quelle due quella una due tre persone che vi creano le preoccupazioni principali iniziamo a metterci attenzione vedete chi sono se dai loro in mano un progetto sicuramente fallirà miserabilmente prima chi poi cosa quello che diceva prima Flavia quindi il concetto fondamentale di questo piccolo intervento è questo se vuoi migliorare la tua azienda migliorare intende renderla più produttiva renderla più bella fare in modo che per te sia un bel posto in cui andare io soffro quando vedo un imprenditore o un'imprenditrice che è giù di tono nell'entrare nella sua azienda ma è assurdo se ci pensate cioè un imprenditore che ha dedicato la vita per costruire qualche cosa che quando ci entra la mattina gli scende la catena è un dramma è un dramma però capita spesso quindi attenzione perché se vuoi migliorare l'azienda devi migliorare la qualità delle tue persone che significa individuare quelle tre categorie lì capire chi sono eliminarne un po' formarne un po' incentivarne un po' quindi io qui ho finito allora OSM che cosa fa fondamentalmente fa funzionare bene le persone OSM è un gruppo di consulenza aziendale non ho parlato tanto perché volevo trasmettervi qualcosa di concreto è un gruppo che mette a posto questa cosa quindi aiuta le aziende a identificare chi sono queste tre categorie e metterle a posto facciamo funzionare meglio le persone a me piace metterle in questo modo quindi qui trovate i miei contatti poi comunque ci conosciamo se volete approfondire il discorso vediamo di fissare una data in azienda in cui fare un check up di queste risorse umane capire che cosa sta succedendo e io vi ringrazio molto per l'attenzione spero che vi date i begli spunti e buona serata grazie Giorgio bene allora adesso andiamo giù sotto che abbiamo un aperitivo di network io vi ho lasciato nella cartellina la presentazione di questo libro un modulo per chi vuole approfittare di un check up aziendale per capire i punti di forza e quali sono i paesi migliori sui quali operare poi dopo ci sentiamo e anche perché noi stiamo creando questo club degli amici per creare un network di professionisti da mettere a disposizione delle imprese italiane che vogliono andare all'estero ci vediamo giù e continuiamo insieme bevendo un bicchiere tra amici come dice il circolo degli amici a dopo e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti